video di overwatch questo sarà un video un po' diverso perchè farò una montatura di quelle là bellissime fantastiche con come si chiama share factory metterò una bella musica senza copyright dietro quindi madonna forse la metto perchè se mi riesce probabilmente no perchè è un programma da stupidi però a me non mi riesce usare però so usare il programma che costerebbe 500 euro che non ho pagato tracer raga quindi sono diventato un pro con tracer ma ora metter registro magari non si vede anche sombra secondo me le migliori eroe si eroe eroine d'attacco sono tracer e sombra di sicuro la migliore secondo me è tracer non capisci niente se c'hai una tracer contro contro non ce la fate proprio a counterarla di sicuro perchè poi se tipo quando ricarichi i salti poi usi il flashback quando hai fatto il flashback si dovrebbero ricaricare due cose due tacchine ah intanto il junkrat fa le sue trappole le mette no non è un junkrat si era il junkrat c'hanno i reynard occhio c'hanno i reynard i reynard i reynard io mi devo già curare tracer fa pochi danni per fortuna flashback vedete anche perchè è forte tracer mi sei ricaricato narcosi no narcosi no narcosi no narcosi perfetto sono troppi no no sono troppi sono troppi se riesco a farmi soldato a volo se riesco a farmi soldato a volo no aveva poco quante heal mi sono fatto zero perfetto zero heal perfettissimo guarda che bella skin c'è quello di zeniet questa skin dei 3 sarà leggendaria cioè è leggendaria di rengo però non è proprio bella ho la ultima ho la ultima ora chiappa mi cura qua c'è il medikit torna da fortnite io ciao si ma voi state scherzando volete tracer raga e op non non c'è niente che la può canterare cioè si tanti possono canterarla ah prima partita del giorno quindi sono un po poco fresco sono fresco e non so caldo tocchiamo qua eccoci lontano 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 vai bella occhio occhio là ora vado sopra la rush mi trappolamento eh vabbè come lo hai perché è morto oh no sono troppi sono troppi sono troppi sono troppi no che ulti di merda ha usato che schifo ma che merda ha fatto no raga no 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 ci posso credo c'è anche una mercy schifosa che anche noi dovremmo prendere no no ce l'abbiamo anche noi eh volevi perfetto l'ho ucciso mentre ci aveva la sua ulti devo arrivare al medikit che non so dov'è proviamo di qua proviamo a scappare di qua scappare di qua ma non c'è nemmeno un medikit ma come ma mi ha sciattato cioè io non voglio fare un video di merda eh ciao pensavo che tipo Reinar aveva lo scudo blu pensavo non fosse la hillcam hillcam eh dopo cambierò dopo cambierò no questa ultima la gioco bene raga questa ultima la gioco perfetto ora quando il Reinar torna no c'è il il tizio con il soldato con l'ulti il soldato con l'ulti eh raga l'ulti del soldato è fantastica ora 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 no 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 che mossa schifosa il flashback l'ho usato dieci volte prima che palle ma che noob di merda quante gliel'ho fatto nove mi posso mettere nove clip al massimo mi metto anche le morti adesso vediamo accendo eeeh volevate fan cur merda con lana la devo fare con lana con lana nooo che stronzo che stronzo che stronzo no no impossibile impossibile vincere impossibile vincere impossibile vincere andola c'è il doomfist il doomfist quindi va eliminato subito perfetto eeeh cia puttana dopo vorrei farvi spettacolo in ogni jam cratta eeeh stai col dietro stai col dietro stai col dietro stai col dietro bravo eeeh merci bella doomfist doomfist erano erano troppi verena no 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 scappa bomba in buca bomba in buca bomba in buca no questo luna ardente non mi piace c'è eeeh butto la bomba qua non c'è una cura una volta oh medica come lo volete chiamare no 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 ragazzi sono troppi sono troppi sono troppi sono veramente troppi sono veramente troppi narcosi 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 no narcosi no narcosi no narcosi spaviamo x che dicono che funziona uuuu per un boccio de fulo bravo 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 lena bravo sono 6 5 tranquillo eeeh mi dispiace la c'è il soldato occhio devo riuscire ad arrivare in qualche modo a loro si passo da qua dietro mi fido non è un medikit passo da qua dietro serve un muore dovrebbe eliminarlo si gli ho fatto sprecare la ulti per rompi i coglioni di un bastion no com'è si bastion io l'ho preso tipo tre volte e tutte tre volte mi è piaciuta eh ti faccio impazzire eh qua se elimino la merce è andata ma devo curarmi devo curarmi a tutti i costi oh siccome attacco io mi sono attacco se fare s eh c'ho ancora con questa bella ulti non la vorrei sprecare si eh non la spreco vai eh no no mi dispiace pensavo di averla attaccata vedete l'ha tolto l'ha tolto solo 20 di vita merda vabbè da te eh diamoci la mossa eh io sto dentro io più di fa così non posso con la mercy va assolutamente eliminata dai recupera 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 vita recupera vita perfetto eh raga io li sto facendo solo tanti danni eh lo so perfettamente ma eh cioè con la mercy è fantastica la nostra fa schifo di mercy guardate non li sto facendo morire nemmeno uno si ce l'ho eh ce l'ho raga butto l'ulti là in culo madonna fatti 10 che costa ulti se restano là ce le faccio ce le faccio tranquillamente se poi ve la messi un cura quel bastion di merda ce la possiamo fa tu sto ulti nel mi boom una una kill l'ho fatta vabbè e poi il bello di bastion è che si cura pure eh 10 secondi raga non ce la posso fare qua troppo forti loro eh usa flashback dove sta il carico dove sta confitta vabbè ora registro altre due parti un'altra parte ah qua questo è stato fantastico ma questo è forte andiamo la loro merci raga fantastica no 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 voto per lei fortissimo baldo matchmaking di merda io attacco congeniata attenzione reinhardt prendete reinhardt oh go go yeah 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 reinhardt io di anubi matchmaking schifosissimo attacchiamo e giustamente io mi hanno preso tracer prendo sombra sombra è fortissima oltre che avere dei bei capelli attacchiamo quindi c'è attivamente bisogna aspettare quindi io taglio o se no vi racconto qualcosa taglio volevo vedere se se praticamente passava il coso questa abilità questa abilità di sombra qua è fantastica che bello guarda tipo fate conto che qua ci sia una cura sopra sopra questo tavolino c'è un medikit te vai qua metti invisibilità esci rasci ti stanno uccidendo tac e poi o rispararli sei già curato perché il coso è sopra il medikit quindi è op sombra ora sono invisibile allo spawn mi posso curare tac ho sette secondi eh tac no lo dobbiamo mettere qua dentro ora ritorno invisibile così vado più veloce anche se non è questo l'uso ora vi faccio un po' di danno tac con questa tecnica io mi faccio sempre odiare però questo si chiama giocare quello generato ha poca di vita anche la tracer guardami le chiappe non sono molto felice se mi guardi le chiappe tu corro dork ciao zaria ciao come va eh questo potevo anche non usarlo eh comunque mi piace sempre stare allo spawn allo spawn lo spawn cazzo mi pare perfetto 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 non ha fatto niente per risuscitarlo vicino a questo obiettivo c'è una cura eh quindi dovrei star fresco se mi tolgo della vita visto questo è spagnolo occhio a tracer che ha usato il flashback ora andando invisibile qua è semplice non faccio scovare eh non può andare in modalità torretta eh può anche agherare visto questo ho deciso qua faccio prima da cherala faccio prima cherala no oh è serie di 10 attenzione signori attenzione vittoria no primo round concluso doppietta che cos'è ah praticamente ho sbloccato un un trofeo molto raro che praticamente era conquista tutti e due gli obiettivi senza mai morire io vi ricordo che non sono mai morto e per questo dovrei avere le kill oro credo però ho fatto anche poche uccisioni io non sono mai morto perché ho utilizzato questo stratagemma che era che è fantastico ora non posso più usarlo ma comunque già lo già posso posso usarlo un pochino perché metto il rilocatore sarebbe questa cosa qua posso usarlo per metterlo sopra una cura e tornarci perché non me lo fa chiarare ah si la sombra non può chiarare le cose prima che non può chiarare fino a che non si può e anche non inizia il round praticamente anche la sua skin è figa ora vado là davanti e acero qualcuno tipo tracer addio zaria di merda ora me la mettiamo 13 kg una morte se già cerca di non tagliare le pare di zaria ma no 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 lo conquistano se lo dico io non non conquista niente poi dico non lo conquistano si si lo conquista lo conquista patate quanti so eh ora faccio il bastardo rivolatore qua qua finisce eccolo lo metto qua così se dovessi morire qua torno indietro ho 4 secondi eh torno indietro eh preferivano rischiare oh il povero escito questa è spagnola se non l'avevate capito merda raga merda merda conteso questo chanclat quanto lo odio gli verrebbe un crancro un crancro eh attenzione perché io non sono attivo detto crancro così 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 non è un cancro ma è un crancro reynard che cosa fai non ho l'invisibilità vai ah quella tracer bravo eh raga con questa tecnica ci sfanno le big kill perfetto eh non mi dispiace ho detto con questa tecnica ci sfanno le big kill e sono morto attaccando di là perfetto è morto sono teso è mai morta io metto un rilocatore qua una doppia però ho fatto un po' il codardo metto il rilocatore e lì rascio e io rascio ciao tracer passo da dietro e poi non è l'obiettivo eh raga è così che funziona poi vado invisibile e rascio da dietro eh tac prendo la cura qua c'è la c'è la c'è la c'è la no ma la bomba mi ha messo coglioni siamo anche uno in meno vorrei ricordare no davvero siamo uno in meno sì arrivo 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 eh no Non ce l'ho fatta, grazie Nooo, non ce l'ho fatta, 29 kill Io sta partita ve la posso anche caricatuta Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta Tutto il tracer di merda Nooo, con questa tecnica vincete sempre Cioè ci sarà sempre quella tracer che la voleva lasciare Che non lo sapevo io No 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 no, madonna Buona Grazie No, non mi è risuscitato C'è che non ha C'è qualcuno, c'è qualcuno di qua, c'è qualcuno Olè, olè, olè Guardiamo l'azione migliore della partita Vabbè il soldato, il soldato Con lo skill leggendaria Eh sì, come ha fatto Ieri quello E si è fatto una chi... ah no 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 Si è fatto 5 e ci si Raga Votatemi Oh, sombra Votate sombra Sombra Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Noi ci vediamo a un prossimo video No, aspettate No, aspettate C'era il fortino Non lo ricordavo Ora qui Apro il forziere E poi ci salutiamo Vai Olè Comune Schifo Schifo Uè, figa questa Mi piace Ora la metto Non avevo molto cose belle Vai Ora devo andare assolutamente a mangiare Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Lasciate un mi piace Non dividete il video Seguitevi su Instagram E Lasciate like Soprattutto Ma soprattutto Iscrivetevi Ciao ragazzi Ciao